Sapevamo che Perugia ha una linea di battitori molto importante e che dovremmo essere pronti per tenere la pala, per giocare più di una volta. Per una parte del set della partita siamo riusciti a farlo, a stare bravi di concentrati, poi una volta che si sono spaccati il set non siamo mai riusciti a riprenderli. Però chiaramente è una squadra che adesso in questo momento è sicuramente più alta a noi, al nostro livello. Noi dobbiamo tornare in palestra e lavorare subito che contro Piacenza aveva una partita importantissima. Sono contento di vedere il palazzetto così pieno, tanta gente che è venuta oggi in 26 in questa festa. Poi in campo sì, c'era un po' di attesa per il ritorno di Nico, questa diciamo che è la prima settimana dopo tante che siamo riusciti ad allenarci quasi al completo. Lo stavamo aspettando da un po' di tempo. Ancora sicuramente devo trovare un po' della forma fisica, ma sicuramente sarà pronto per la partita con piacente.